Questo video tratta una tematica molto importante e cioè le menzogne che si raccontano sulla figura di Gesù Cristo. Queste menzogne vengono raccontate soprattutto dagli atei, dai non credenti, dai nemici della Chiesa di Cristo, dai nemici di Cristo, ma non solo purtroppo, perché questi intellettuali atei e non solo hanno spesso un grande ascendente anche sui cristiani, anche sui cattolici e presso quei cattolici che non hanno una conoscenza così solida della dottrina e della Bibbia, del testo evangelico, c'è il rischio che spesso appunto si dia ascolto a questi personaggi che chiaramente fanno, utilizzano, fanno uso dell'ignoranza purtroppo di tante persone per attirare a sé, quindi cancellare, ridurre la fede di tante persone proprio con concezioni di Gesù Cristo che sono assolutamente anticristiane e soprattutto errate. Quali sono le principali due idee false sulla figura di Cristo che si vanno diffondendo, soprattutto attraverso le opere, i lavori, qui non entrerò a fare nome e cognome, ma di molti intellettuali italiani di sinistra, molto famosi, che hanno chiaramente l'obiettivo appunto di denigrare la figura del Cristo o di trasformarla in qualcos'altro. I principali due punti sui quali lavorano, si fa per dire, questi personaggi sono due concetti. Il primo l'idea errata ovviamente che il Cristo fosse semplicemente soltanto un uomo sceso sulla terra o comunque un uomo sulla terra che volesse fare una rivoluzione politica, quindi una sorta di Che Guevara, una sorta di marxista-leninista che aveva l'obiettivo appunto, come tanti altri personaggi anche lodevoli della storia dell'umanità, di cambiare, appunto migliorare le condizioni sociali dell'umanità. Ora io dimostrerò attraverso una serie di passi evangelici che questo è assolutamente falso, quindi la prima teoria che confuterò non attraverso le mie parole, ma attraverso le parole stesse dei testi evangelici, quindi della scrittura che è parola di Dio, che appunto tutto ciò è falso. La seconda teoria purtroppo dominante ai nostri tempi è l'idea appunto che Gesù Cristo fosse soltanto un uomo e soprattutto che non sapesse quello che sarebbe stato il suo destino. Quindi l'idea praticamente di un Gesù Cristo come un normalissimo uomo, quindi non Dio stesso ovviamente, è una persona che appunto voleva compiere delle opere buone ma semplicemente, ripeto, come qualunque altro uomo sulla terra. Quindi l'altra teoria, quindi pericolosissima, è questa, cioè l'idea di un Gesù Cristo che è semplicemente come potrebbe essere stato Socrate come tanti altri appunto sagge, sagge persone vissute appunto su questa terra, che però non aveva assolutamente l'obiettivo di sacrificare se stesso fino alla morte di Croce. E anche qui io dimostrerò, perché purtroppo ci sono dei testi dove si raccontano queste menzogne e tanta gente vi crede, io dimostrerò appunto alla luce del testo evangelico che queste cose sono assolutamente false e sono vergognosamente false, sono delle vere e proprie menzogne. Vi ripeto, la seconda teoria, che va purtroppo per la maggiore anche attraverso alcune teologie moderniste dell'ultimo periodo, insomma degli ultimi due secoli, hanno sviluppato appunto questa idea di un Cristo che semplicemente era una persona appunto che andava in giro per il mondo a fare del bene, come potrebbe essere stato che so, Gino Strada o tante altre persone, ma che assolutamente tutto non era il figlio di Dio e in secondo luogo non aveva assolutamente l'intenzione, la libera intenzione, cosa invece sappiamo essere vero, di offrire la propria vita appunto per gli uomini, quindi per il perdono dei peccati da parte di Dio stesso, da parte del Padre. Quindi questa è la seconda eresia diremmo dal punto di vista teologico, comunque la seconda grandissima menzogna che si va diffondendo purtroppo anche all'interno della Chiesa di Cristo. Qual è l'obiettivo di questa seconda menzogna? Quella appunto di cancellare l'importanza escatologica della rifiuta di Cristo, parola un po' difficile che vuol dire il fatto che Cristo è sceso sulla terra per salvare le nostre anime, per portarci in paradiso, per nonostante il peccato originale, se lo seguiamo, darci la grazia per andare in paradiso. Questo è lo scopo per il quale Cristo è sceso sulla terra e ha dato il suo sangue, ha dato il suo corpo con la morte di croce. Loro invece, obiettivo satanico, chiaramente vogliono cancellare questa idea escatologica di Cristo e trasformarlo, ripeto, semplicemente in un uomo che ha fatto delle buone azioni, ma che poi è morto, è in croce e è tutto finito lì. Ora, quindi attraverso questi passi evangelici, per non essere troppo lungo, cercherò appunto di mostrare, leggendo il testo, che invece in vari punti Cristo stesso confuta, per così dire, queste stupidate raccontate da questi pseudo intellettuali. Allora, il primo passo è del famoso Vangelo di San Giovanni e mi riferisco appunto alla teoria secondo la quale Cristo appunto volesse fare un regno su questa terra, quindi la falsa teoria secondo la quale Cristo volesse fare il rivoluzionario, appunto come Che Guevara, come tanti altri personaggi. Andiamo al diciottesimo capitolo del Vangelo di Giovanni, siamo chiaramente all'arresto di Gesù e siamo al dialogo con Pilato. Pilato chiaramente suppone che questo sia un altro sobillatore o un altro appunto agitatore di folle come tanti altri. Cosa risponde Cristo a Pilato? Siamo al verso 36, diciottesimo capitolo, rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo, se di questo mondo fosse mio regno le mie guardie avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ora il mio regno non è di qui. Poi Pilato gli chiede se tu sei reno e quindi continua questo discorso legato alla politica, quindi Cristo dice chiaramente io non sono venuto qui per fondare un regno su questa terra, ma lo sappiamo, il regno dei cieli e quindi per portare alla vita eterna tutti coloro i quali vogliono seguire la sua parola e quindi godere appunto della grazia, dell'unione con Cristo. Poi c'è la flagellazione, la condanna a Pilato, poi più avanti è molto interessante, pone quella domanda che è la domanda di tutti i relativisti, che cos'è la verità? Quides veritas, ovviamente lui non crede che esista una verità e via dicendo. Allora quindi questo per quanto riguarda appunto il discorso relativo al regno, il mio regno è di questo modo. Capitolo 14 sempre del Vangelo di San Giovanni appunto è sempre un passo famoso in cui appunto si parla del turbamento che avevano appunto gli apostoli, del sentire il fatto che Cristo dice io andrò al padre, dicono ma cosa sta dicendo questa persona qua? Infatti dice Cristo credete in Dio e credete anche in me, nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei forse detto che vado a prepararvi un posto? E questa è la confutazione del fatto che Cristo non sapesse chi era, Cristo sapeva chi era, tant'è che dice io tornerò al padre e che appunto quando sarò andato e vi avrò preparato un posto ritornerò e vi prenderò presso di me. Non sta parlando di una simpatica magione su questa terra ma sta parlando del paradiso e chiaramente del fatto che lui tornerà al cielo e lì appunto preparerà i posti in paradiso per tutti coloro i quali i primi squigli apostoli che lo seguiranno e chiaramente tutti coloro che nella storia dell'umanità poi seguiranno la sua parola. Tant'è che poi Tommaso gli chiede Signore non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E Gesù risponde io sono la via, la verità e la vita, quindi qui la verità è con la via maiuscola lui stesso, fa una confessione di fede, cosa dobbiamo ancora leggere di fronte a questi intellettuali cialtroni i quali ci vengono a dire che Cristo non sapeva chi fosse e lui dice io sono la via, la verità e la vita, io non so questi cialtroni cosa abbiano letto, hanno letto forse i Vangeli Apocrifi, hanno letto qualche altra idiozia scritta da qualcun altro, ma qui Cristo dice io sono la via, la verità e la vita, quindi io direi che forse non è un regno di questo mondo ma che Cristo stesso innanzitutto fa una confessione su se stesso, dice io sono chiaramente colui che porta alla via, alla verità e alla vita. Mostraci il padre, poi dice Filippo, vedete questo dialogo molto attivo dove chiaramente è realistico perché ciò è veramente avvenuto, è veramente avvenuta, sono veramente avvenuti questi dubbi, questi fraintendimenti e Cristo che chiaramente ti ha detto da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto Filippo, il padre sono io e io e il padre è me, quindi chiaramente qui c'è l'unione poi della trinità e quindi appunto come puoi dire, mostraci il padre, non credi che io sono nel padre e il padre è in me e quindi qui anche tutti gli ariani del nostro tempo se ne facciano ragione, Cristo è Dio, è padre, figlio e spirito santo e quindi chiaramente io sono nel padre e il padre è in me, almeno credete a causa delle opere stesse, siccome questa generazione appunto malvagia ha bisogno delle opere, dei segni come diceva San Giovanni, almeno credete ai segni. Quindi questa è un'altra dimostrazione del fatto appunto che Cristo dichiara se stesso essere la verità e quindi direi che qui tutti i vari cialtroni sono confutati e purtroppo però basterebbe appunto da cristiani leggere il testo evangelico per ridacchiare per così dire di fronte a queste idiozie, però purtroppo continuano a moltiplicarsi alla luce proprio di una fondamentale ignoranza nei confronti delle scritture e dico io non dico la persona superba, io stesso leggo in italiano come potrebbe leggere qualunque altra persona, il testo greco comunque dice le stesse cose e qui ne direi che. Allora passiamo quindi ancora alla tematica della tematica disgustosa del fatto che Cristo non sarebbe, non avrebbe saputo chi fosse o comunque avrebbe, non sapeva che sarebbe morto in croce, ci sono tutta una serie di confutazione soprattutto legate al Vangelo di San Marco, una appunto è già quella mostrata e poi anche nel Vangelo di San Marco, prima però volevo mostrare, leggere anche qualcosa del Vangelo di San Luca invece, siamo al capitolo 9 versetto 22 dove appunto si riferisce alla sofferenza e la morte del figlio dell'uomo e cosa dice Cristo? È necessario che il figlio dell'uomo soffra molto, sia condannato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli escrivi, sia messo a morte e risorga il terzo giorno, è evidente che appunto questi intellettuali italiani forse non conoscono la loro lingua o non l'hanno letta o fingono di non saper leggere. Primo passo Luca capitolo 9 versetti 22 e 25, andatevi pure a rileggere, lui dice chiaramente Gesù Cristo che conosce la sua fine e la sua condanna e soprattutto ha scelto di offrire se stesso. Capitolo 8 del Vangelo di San Marco, versetto 31, cerchio tutti, quindi egli cominciò ad ammaestrarli, è necessario che il figlio dell'uomo soffra molto, che sia riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scrivi, sia ucciso dopo tre giorni di risorga la stessa identica letterale citazione di San Luca, si saranno sentiti, si saranno parlati, non lo so, evidentemente queste parole sono state dette, la stessa identica cosa, Cristo dice, se compare in entrambi i Vangeli, perché evidentemente è molto importante, fa la confessione sul suo futuro, è necessario che muoia e risorga il figlio dell'uomo, ovviamente lui stesso non sta parlando di una controfigura. Ancora più avanti, ancora nel capitolo 8 del Vangelo di San Marco, non posso citarle tutte, ma ne ho una quantità incredibile, versetto 38, chi si sarà vergognato di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adulta e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del padre insieme agli angeli santi, qui Cristo mostra già la fase successiva, quando egli tornerà, ancora non lo abbiamo visto, tornare, la sua seconda venuta appunto alla fine dei tempi, quindi evidentemente è cosciente di non essere un santone, un guru, ma di essere evidentemente Dio che torna a giudicare. Capitolo 9 del Vangelo di San Marco, cerco di essere breve, quando poi discesero dal monte Gesù comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto fino a quando il figlio dell'uomo non fosse risuscitato dai morti, non fosse risuscitato dai morti, qui siamo subito dopo la trasfigurazione sul monte appunto Tabor, dove San Pietro si è un po' spaventato perché ha visto qualcosa di non umano, ha visto comparire, ha visto le vesti candide del Cristo, ha visto insieme a lui Elia e Mosè, persone già in paradiso, già nel regno dei cieli e si è un po' spaventato perché insomma come quando appare, insomma a noi non è mai apparso, ma una figura celestiale e allora per cercare non sa che cosa dire, dice facciamo una tenda e Cristo insomma dice non dite nulla fin quando io non sarò risuscitato risuscitato dai morti ed ecco qua che loro osservarono l'ordine, ma intanto si chiedevano tra loro cosa significasse risuscitare dai morti perché poi vedete che sono gli apposti ovviamente a non capire che cosa vuol dire risuscitare dai morti, è qualcosa di assolutamente inumano, mai visto, è Cristo soltanto lui a conoscere questa verità per il momento, quindi capite che è assurdo ritenere che non sapesse quale fosse il suo destino, che cosa lui stesso fosse, poi trentunesimo verso del capitolo nono, sempre di Matteo, infatti stava maestrando il suo discepolo e diceva allora il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, ma ha ucciso dopo tre giorni e risusciterà, un'altra volta ritorna ancora a quello che abbiamo letto già prima, quindi Marco lo ripete in varie circostanze evidentemente è un po' importante, ancora al capitolo dieci dove si parla del divorzio del Vangelo di San Marco al versetto 33, c'è poi l'evento, la scena del giovane ricco e che cosa dice la terza predizione della passione, ecco noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato in mano ai principi dei sacerdoti e agli scrivi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno in mano ai gentili, dice il Cristo, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lui conosce già ovviamente essendo onnisciente tutti gli eventi che liberamente gli uomini compiono, compiendo il male nei suoi confronti, c'è il libero arbitrio dell'uomo ma c'è l'onniscienza divina e Cristo è Dio ovviamente che già conosce, quindi sta confessando, sta dichiarando, sta facendo una predizione appunto ai suoi apostoli, ai suoi discepoli della sua fine, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma egli dopo tre giorni risusciterà parlando di se stesso in terza persona, ancora una volta quindi per l'ennesima volta la confutazione di queste specie di intellettuali appunto che ritengono di farsi di gloriarsi di cose che non conoscono e ancora versetto 45 del Vangelo di San Marco, ripeto capitolo 10, infatti il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la propria vita in riscatto per molti, qui c'è proprio l'evidente coscienza da parte di Cristo del fatto che la sua vita deve essere data in riscatto, c'è bisogno, è necessario che il figlio di Dio, lui Dio stesso si offra e quindi che Dio, l'amore di Dio sia talmente grande da offrire la stessa sua vita di uomo in quanto egli è anche uomo, oltre che la propria sofferenza fisica che noi sappiamo che Cristo condivise con noi tutto fuorché il peccato, quindi la sofferenza fisica e psichica di sapere di stare per andare sulla croce e soprattutto di conoscere tutti gli atti, tutti gli eventi, noi tante volte soffriamo ma soffriremo molto di più se come Cristo conoscessimo tutta la sofferenza che ancora nella nostra vita sicuramente dovremo sopportare, ecco lui ebbe la sofferenza più grande, patì la sofferenza più grande di qualunque altro uomo proprio perché era onnisciente, in quanto era, è onnisciente, Cristo ancora chiaramente è eterno, quindi capite che lui aveva una coscienza perfetta e qui c'è il concetto dell'onniscienza, basta avere un minimo di cervello per capire questa cosa che egli è assolutamente onnisciente su tutti gli eventi che staranno per capitargli la morte di croce e poi la resurrezione, tant'è che poi appunto gli apostoli ovviamente si turbano, rimangono turbati, quindi questo è un po' il quadro generale che mi premeva appunto dimostrare per evidenziare in maniera chiara senza polemiche insomma per evidenziare come si possa davvero essere scorretti, si possa essere davvero dei depravati tra virgolette in termini letterari e in termini intellettuali nel negare ciò che è qui evidentemente mostrato. Poi chiaramente qual è lo schema che utilizzano tanti atei e nemici della chiesa, vuol dire eh ma questi vangeli sono falsi, che praticamente i vangeli apocrifi che la chiesa come comunicata cristiana ha riconosciuto come falsi per gli atei ovviamente sono veri, mentre al contrario i vangeli riconosciuti che gli canonici ovviamente siccome dicono le cose che loro non vogliono sentir dire, allora sono i vangeli veri, quindi questa è la menzogna satanica che continua ovviamente sulla figura del Cristo a perpetuarsi perché Satana ha bisogno chiaramente di suoi amici per perpetuare le proprie malefatte, quindi portare il maggior numero di persone attraverso questa idea del Cristo esattamente, semplicemente come uomo, alla dannazione poi e chiaramente ad una visione del cristianesimo che non è più tale, quindi a svuotare il cristianesimo dall'interno, purtroppo questo è il grave dramma, il fatto che tanti cristiani credono a queste stupidate e quindi non comprendono più quando vanno alla messa per esempio, che lì c'è il salvatore del mondo, se trasformiamo Cristo in un benefattore, in una persona che ha detto dobbiamo dare agli altri, certo che lo ha detto, ma lo ha detto esclusivamente nell'amore per Cristo, se non c'è l'amore per Cristo e per Dio questo amore per gli altri è semplicemente appunto un buonismo che però non cambia le sorti dell'umanità perché poi la morte arriva, Cristo invece è colui che ha vinto la morte e ha dato la vita eterna, soltanto se il Cristo, se si crede al Gesù Cristo che ci dona la vita eterna, il cristianesimo esiste ancora, altrimenti si trasformerà, come già in parte sta facendo, semplicemente in una filosofia, in una bella serie di parole, tanti bei valori che però appunto a cui credono anche i pagani, la differenza appunto tra il cristiano e il pagano è al di là di tutto la fede nell'unica salvezza che è Gesù Cristo stesso, che è via verità e vita, non c'è speranza, non c'è salvezza per l'umanità senza il passaggio attraverso la fede in Cristo e questa è la differenza appunto tra gli atei che pure sono persone di altissimi valori umani ma che possono solo essere condotte alla disperazione nel momento in cui ovviamente non riconoscono che questa vita non è destinata ad una fine ma che è destinata alla gioia eterna per coloro i quali seguono Gesù Cristo nostro Signore.